Euroregione News Friuli e Trieste autonomia per difesa tantissimi partecipanti con comitati e gruppi in difesa dei cittadini come Pietro Bazzov del fronte per l'indipendenza questo credo sia un punto di partenza per l'indipendenza del Friuli non autonomia come stanno dicendo delle due province Friuli e Trieste autonomia e federalismo puntando poi sentendo anche gli amici attesini che sono d'accordo di fare un Triveneto confederato sul modello svizzero altre cose sono solo chiacchiere noi non miriamo a careghe romane perché è questo che stanno facendo tutti chi fa politica noi siamo solo per la gente e al servizio della gente io sono molto legato col Veneto mi chiamano a fare dei convegni adesso ci sarà un prossimo convegno sulla autodeterminazione dei popoli lo faremo a Trissino un locale, città in cui l'indipendenza veneta ha avuto una grossa percentuale di voti si farà il 5 febbraio presso il palazzetto dello sport la strada unica da fare è quella dell'autodeterminazione non ci sono strade perché noi qua il referendum non ce lo permettono dal Medio Friuli per Euroregione News Marco Mascioli i nostri servizi sono disponibili su internet